Oggi si celebra la giornata mondiale del cane, una ricorrenza nata nel 2004 negli Stati Uniti e diffusa a livello internazionale. Una giornata che celebra i fedeli amici a quattro zampe, diventando occasione per trattare temi importanti e sensibilizzare sull'adozione e contro l'abbandono. Perché il cane è sì considerato il miglior amico dell'uomo, ma certi uomini, con scelte irresponsabili e ingiuste, non sempre hanno dimostrato lo stesso affetto. I responsabili dei canili piacentini evidenziano infatti il problema delle rinunce di proprietà, definendole abbandoni legalizzati, che riguardano soprattutto cani adulti e di media e grossa taglia, difficili quindi da fare adottare. A Piacenza sono tanti i cani ospitati nella struttura comunale. Invitiamo tutti ad aumentare ancora di più rispetto a quanto già non sia la sensibilità nei confronti delle adozioni nei canili. Ringraziamo tutte le persone che ogni giorno vengono ad adottare i cani, non si fermano davanti al fatto che magari abbiamo cani adulti o cani anche impegnativi, ma arrivano a cuore aperto e sono felici di conoscere i cani, di farsi consigliare e di introdurre un nuovo membro della famiglia. Ricordiamo che per noi tutti i cani sono degli individui, dotati di sentimenti e di sensibilità, quindi è come se fosse una giornata dedicata proprio a un familiare. Al canile di Monte Bolzone, nel comune di Agazzano, sono 106 cani ospitati in struttura, che non vedono l'ora di abbracciare nuovi proprietari. Ormai gli abbandoni non sono più estivi, ma ci sono tutti gli anni, ma quello che noi stiamo vedendo nel nostro canile, che è il canile di Agazzano, ma credo che anche negli altri canili, ormai gli abbandoni storici, cioè quelli dove venivano abbandonati i cani di fianco alla strada, non esistono più, ma esistono quelli che noi chiamiamo gli abbandoni legalizzati, cioè il fatto di portare il cane al canile e di lasciarlo lì, che è comunque un abbandono. Quindi dall'altra parte invitiamo ovviamente la gente a venire ad adottare i cani in canile. Situazioni simili ai canili di Castellarquato e Fiorenzuola, dove volontari e operatori ogni giorno si occupano di cani che meritano cure e attenzioni.